Sì, sì, non d'accordo. Penso che alla fine il pareggio sarebbe stato giusto. Purtroppo non è arrivato, ora bisogna mettere da parte che sarebbe già martedì. Cosa è cambiato secondo te tra il primo e il secondo tempo? Ma al primo tempo, come ha detto il mister, magari certi meccanismi non sono funzionati perché magari penso sia anche normale perché lavoriamo da poco tempo con il mister. Però dobbiamo migliorare, dobbiamo cercare di migliorare già da martedì. Il secondo tempo è un po' meglio, anche forse per il fatto che volevamo pareggiarla a tutti i costi, ci siamo un po' sbilanciati e magari abbiamo creato più occasioni. Secondo te, Lelian, il Pescara è pronto, fisicamente parlo, ad affrontare questo tour de force oppure vi sentite un pochino indietro rispetto a quanto chiede Breda? Ma rispetto alle ultime due partite, io ho visto che a livello fisico stiamo meglio. Anche oggi, fino all'ultimo, potevamo pareggiarla, quindi non è una questione a livello fisico. Sono convinto che reggeremo queste partite qua, anche se sono tante in pochi giorni. Posso? Sì, sì. Vai, vai, vai. Ciao, Lelian. Lelian, volevo tornare un attimo sul tuo avvio di stagione, che è stato un po' sotto tono. Quanto c'era di problema fisico dopo l'operazione che hai avuto in estate e quindi la ripresa agonistica e quanto c'era anche di tattico? No, c'era un problema fisico all'inizio, poi per trovare la condizione bisogna giocare. Ho fatto poco, però piano piano sto trovando la mia condizione.